L'estate di Controguerra è sicuramente ricca di appuntamenti e dopo la sagra, l'appuntamento imperdibile Controguerra Winebike, siamo giunti alla terza edizione. Sì, è una manifestazione che è nata tre anni fa, quest'anno stiamo al terzo anno, lo organizziamo per la terza volta e la facciamo di domenica, domenica 7 agosto, proprio perché auspichiamo che ci sia un'aspettativa maggiore rispetto agli anni scorsi, facendolo di domenica, poi proponendolo in un periodo di festività, quindi estivo, auspichiamo che ci siano molti più partecipanti. Il percorso è quasi simile a quello degli anni scorsi, dovrebbero essere circa una trentina di chilometri di percorso, che facciamo all'interno del comune di Controguerra, tra le campagne, i vigneti e gli oliveti del nostro comune, tocchiamo tutte le aziende di vitivinico nel nostro comune, dove appunto in ogni azienda poi verrà effettuata una sorta di ristoro, tra virgolette, ovviamente non si berrà vino negli aziende, ma si berrà acqua, come ristoro acqua e frutta e magari qualche crostata. Le iscrizioni sono previste per le 7.30 di mattina, la partenza è prevista per le 8.30 davanti al comune, si inizia questo percorso che ovviamente è assistito, è una sorta di pedalata che è ovviamente cicloturistica guidata, quindi non è una gara, ma è un percorso che viene fatto insieme, insieme ai maestri di sci che sono lì apposta a codivare tutti i partecipanti durante il percorso, toccate tutte le aziende e si arriverà in Enoteca, dove appunto ci sarà la possibilità poi per chi vuole di andare a farsi le docce presso la nostra palestra comunale e poi all'interno dell'Enoteca, cioè nella piazza adiacente all'Enoteca comunale, ci sarà il consueto pasta party con della musica e con le premiazioni. Diciamo che su questo noi riponiamo una grandissima aspettativa, tra l'altro non è la prima cicloturistica che si fa nel territorio, ma se ne fanno tantissime, la fa il comune di Torano, la fanno tantissimi altri comuni in provincia di Termo, quindi insomma questo è un fenomeno che non può far altro che crescere e che far aumentare il turismo dalle coste alla collina. Quindi un appuntamento adatto a tutti, ricordiamo comunque domenica 7 agosto. Sì, un appuntamento sicuramente adatto a tutti, poi ovviamente ci sarà anche la possibilità di fare percorsi un po' più tranquilli, magari meno impegnativi rispetto a quelli che proponiamo noi, ma sicuramente è un appuntamento per la quale, ripeto, c'è una grandissima aspettativa.